Dai, 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 tagliala di lì, su! Oh! Ci troviamo là le macchine, eh! Al parcheggio! Ci troviamo al parcheggio, eh! Ciri! Ci troviamo al parcheggio che poi rifacciamo il lavatoio al contrario! Dai, su! E la spegne! No, non mica le braccia, la scimmia! Passa, lascia la giù! C'è le gambe come la scimmia! Forza! Ah, da qui! Sì, dai, stai, parti da lì, parti da lì, che ci vuole un secondo! Tanto la sua è presa diretta, non c'è frizione, non c'è un cazzo! Quindi l'accendi, apri e vai! Devi fare niente! Aspetta che metto... Era in quinta! Dai, porta avanti la sua! Portala avanti là, dai! Ah, ho detto di portarla lì! Dai, dai! Veloce! Allora! Ah, è andato a fare le... Cazzi tuoi! Cazzi tuoi! Ah, con la scorta non ruota, eh! Te l'ho detto che non ha frizione! Dai, Sergio! Ciao! non vale far la slick a far la slick